Il bacio di Daniele Verde a chi? A mister? A mister Toscano ovviamente, lo devo a lui soprattutto, mi ha aiutato tanto. Spiegaci perché, perché ovviamente mister Toscano è finito un po' sul banco degli imputati, nelle prime sei giornate di campionato proprio circa il tuo utilizzo, a furor di popolo sei stato chiamato in causa, tutti ti volevano titolare, invece mister Toscano ogni volta ti schierava in panchina. Poi c'è stato questo dialogo ad inizio settimana, che cosa è cambiato? Ma proprio questo che devo fare onore a lui perché magari essendo un po' giù fisicamente io volevo fare più di quello che potevo e andavo sempre a finire che ci perdevo io, quindi è stato un bene non farmi giocare o magari farmi subentrare, così assumendo minuti da poter fare una partita del genere. Oggi però avevi una carica in più, una carica speciale. Esatto, ma in primis perché abbiamo già andato davanti a questi tifosi fantastici e poi per me perché chi si ferma è perduto, quindi ho deciso da oggi di non fermarmi più. Ovviamente ce l'auguriamo di cuore. Daniele, parlaci appunto di questo feeling che è nato con la piazza Irpina, lo abbiamo sottolineato anche durante le settimane scorse, bastava che ti alzassi dalla panchina per effettuare il riscaldamento, subito applausi. Poi oggi questa standing ovation che ti ha attributato per partire in Lombardo? È davvero un'emozione che solo chi la vive la può spiegare, quindi credo che a me serviva una piazza così, ringraziando Dio l'ho trovata qui ad Avellino. A me sono loro che mi spingono, quindi nel bene o nel male io sarò un coloro fino alla fine. Rudy Garcia ti ha lanciato in Serie A, adesso c'è Toscano, però c'hai un idolo su tutti che è Francesco Totti che pochi giorni fa ha compiuto 40 anni, ti ha già mandato qualche messaggio oppure no? No, no, ho fatto io gli auguri sui social, ma è una persona fantastica, lo sappiamo tutti e io sono contento di aver partecipato nella sua squadra. Ci stiamo chiedendo e ci siamo chiesti con il mister qual è la posizione di Daniele Verde soprattutto con questo cambio di modulo che c'è stato nel 3-5-2. Noi puntavamo tutto su Daniele Verde, seconda punta, però sei stato provato anche da interno di centrocampo. Sì, il ruolo a me non mi stupisce perché darò tutto con l'anima, il cuore, quindi i risultati avvengono sempre. A me non c'è problema, penso più seconda punta perché starò più vicino alla porta, ma il mister dove servirò la andrò a giocare. Chi la dedica di questi due golli? Poi so che hai una menzione speciale anche quest'oggi. Perché? Devi fare degli auguri a qualcuno o no? Sì, faccio prima degli auguri a Teresa e Daniele che si sposano, fanno un gran passo e vi auguro tutto il bene per tutta la vita. I miei golli dedico soprattutto a mia moglie e alla mia famiglia e sicuramente a questo pubblico speciale che lo porterò sempre nel mio cuore. Grazie.